Vi siete mai chiesti quale sarà il futuro del Bitcoin e delle criptovalute? Se state cercando una guida esperta che vi aiuti a navigare nel mondo delle criptovalute, siete nel posto giusto. Oggi discuteremo della recente price action di Bitcoin, esamineremo le notizie rilevanti e vedremo cosa ci riserva il futuro per questa criptovaluta leader. Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. Negli ultimi giorni, il prezzo del Bitcoin ha mostrato segni di una possibile inversione di tendenza verso l'alto. Gli investitori di Mt. Gox non hanno intenzione di vendere i loro Bitcoin, creando così un ambiente favorevole per un aumento del prezzo. La price action attuale sembra allinearsi perfettamente con l'analisi tecnica che abbiamo pubblicato recentemente. Attualmente, Bitcoin sta guadagnando terreno con un aumento dell'1,9% nelle ultime 24 ore, portando la dominance al 55,42%. Questo trend positivo si riflette anche in altre criptovalute, come Ethereum, che ha registrato un incremento dell'1%, attestandosi a 3.293 dollari statunitensi. Questi movimenti indicano una ripresa del mercato dopo alcuni giorni di ribasso. I pattern che abbiamo osservato recentemente suggeriscono una possibile continuazione del rialzo. Ieri, Bitcoin ha chiuso con una candela d'oggi, segno di una forte presenza bullish. Se la chiusura giornaliera si conferma al di sopra di certi livelli critici, potremmo assistere a una significativa crescita del prezzo, con target sopra i 72.000 dollari statunitensi. Analizzando la liquidità, notiamo una notevole quantità accumulata da inizio giugno. Questa liquidità non è stata ancora sfruttata completamente, suggerendo che un eventuale aumento del prezzo potrebbe essere sostenuto da una forte base di liquidità. Inoltre, la presenza di leverage potrebbe amplificare i movimenti del mercato, rendendo essenziale monitorare da vicino questi livelli. Se Bitcoin chiude sopra i 68.000 dollari statunitensi, potremmo vedere una continuazione del trend bullish. Tuttavia, è importante monitorare anche gli sviluppi durante il weekend, quando l'assenza di investimenti istituzionali potrebbe influenzare la volatilità. Il recente inflò di circa 31,10 milioni di USD nei Bitcoin ETF è un segnale positivo per il mercato. Questo trend riflette un crescente interesse istituzionale, nonostante alcune pressioni di vendita che abbiamo osservato recentemente. Ethereum ha visto un inflò negativo di circa 150 milioni di USD, creando una pressione di vendita. Tuttavia, questo non è motivo di preoccupazione immediata, poiché situazioni simili si sono verificate anche con Bitcoin in passato. Con il tempo, il mercato potrebbe stabilizzarsi e vedere un ritorno degli investitori. Kraken ha completato la distribuzione di Bitcoin e Bitcoin Cash agli utenti di MTGOX. Questo evento non ha causato significative variazioni nel prezzo di Bitcoin, indicando che molti degli investitori non hanno intenzione di vendere. La stabilità del prezzo spot su Kraken conferma questa tendenza. La recente price action di Bitcoin ha trovato supporto sull'Ikimoku Cloud, un indicatore tecnico che suggerisce un forte supporto a livelli chiave. Se il prezzo mantiene questi livelli, potremmo vedere un ulteriore aumento nei prossimi giorni. Recentemente, alcune entità statali negli Stati Uniti hanno iniziato ad allocare una percentuale dei loro fondi pensionistici in Bitcoin. Questo trend potrebbe avere un impatto significativo, aumentando la pressione d'acquisto su Bitcoin. La posizione del senatore Roger Marshall, che ha espresso supporto per le criptovalute, potrebbe influenzare la regolamentazione futura negli Stati Uniti. Anche Robert Kennedy Jr. ha dichiarato di detenere una parte significativa della sua ricchezza in Bitcoin, evidenziando un crescente sostegno politico. Il mercato delle criptovalute è in continua evoluzione, influenzato da una combinazione di fattori tecnici e fondamentali. La recente price action di Bitcoin è promettente, ma è essenziale rimanere aggiornati sulle notizie e sui trend di mercato per prendere decisioni informate. Detto questo, grazie per averci seguito fino a questo punto, non sprecare il prossimo volo cripto, grazie per essere stati con noi, se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo cripto e non sprecarvi una criptoavventura, schiacciate quel pulsante seguimi e attivate la campanella. Pronti a partire? Allora ci vediamo nel prossimo video!